Pace e bene carissimi fratelli e sorelle, una bella notizia per tutti voi. L'icona della Madonna Nera di Cesto Cova, regina della Polonia, tanto venerata dal compianto e santo Papa Giovanni Paolo II, dall'11 al 25 novembre sarà qui, in mezzo a noi, a San Giovanni Rotondo, presso i luoghi che hanno visto la presenza, l'opera e la santità del venerato confratello, Padre Pio da Pietricina. Vi aspettiamo, non mancate!